Italiano? Sì, sono italiano, sì. Bravo, amico! Ma dimmi una cosa, quanto mi fai spendere per pulirmi le scarpe? Dueci pesa. No, 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 no. Ah, sei troppo fuoco. Te ne do cinque. Va bene. Va bene? Va bene, sei cinque. Va bene? Sì. Ma dove l'ha imparato l'italiano? A qui, in quinta piazza. Io parlo un cinto in spagnolo. Ah, va bene. Come si parla a soldi in spagnolo? De nero. De nero. Già, finisco. Mira, al posto di cinque tiene due dieci, va bene? Sì, grazie. Grazie a te. Arrivederci. Amico! 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 Amico, tiene! El portafoglio! Grazie! Tras la bondad y la calidad de un pueblo, está el servicio y la integridad de un banco. Banco del Comercio Dominicano. Un banco para todos.